Buongiorno Buongiorno Mi chiamo Elena Pedrini Non bevo da 174 giorni a parte questo 16 ottobre siamo a Brescia finalmente prima di accedere alla valle manca purtroppo la cri è mancata la cri così non mi piace 10 secondi in mano sul cuore per la cri ma riprendiamo immediatamente una un attimo un attimo che illustro la loggia buongissimo orologio astronomico mi dicono denominato il match delle ure perché sarebbero appunto i due personaggi che all'orario battono con il martello sulla campana non 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 ma non 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 semplice con si ma non Io. L'autista in modo particolare ha dormito mentre guidava. Aggiungiamoci. 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 Questa è l'oggetto di oggi. Contiene dell'uranio arricchito. La valigia. Il mesca. 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 Il mesca.